Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul nostro canale! Spero che state avendo una splendida settimana, il video di oggi sarà un What I Eat In A Day, edizione speciale Caraibi, adesso siamo al momento della colazione, siamo venuti in un ristorante vegano qui nella via principale e adesso sto aspettando che ci fosse una colazione per farvela vedere. Questa è la colazione di Leon con frutta fresca e yogurt. Per me invece vado a mangiare un acai bowl, c'ha mirtilli, kiwi, banane, cocco grattugiato, granola e semi di chia, un succo di carota e la colazione avanzata di Leon. E Jorge invece ha preso una pittà ripiena di uova e salsiccia vegana. Vediamo! Poi qui aveva anche un succo d'arancia e un caffè, ma l'ha già finita. Abbiamo chiesto la frutta da portare via perché era tantissima e così questo bimbo c'ha la merendina pronta. Io, non lui! Per ora vi salutiamo e ci vediamo all'ora di casa. Ciao! Siamo in spiaggia e è l'ora dello spuntino prima di mangiare. Per Leon la frutta avanzata della colazione e per noi due piña coladas, la mia senza alcol ovviamente. Per pranzo ci troviamo in questa bellissima spiaggia messicana che si chiama Playa Paraiso e vi faccio vedere cosa mangiare. Allora, per Leon abbiamo qui del riso in bianco con delle verdurine, un petto di pollo alla griglia senza sale, senza niente. Questa è un'insalata condita che non mangerà, la mangeremo noi. Per me ho preso del tonno mezzo crudo con la salsa feriyaki, delle verdure e un'insalata. e l'accompagno con una piña colada senza alcol. Jorge invece, che ha già cominciato, ha preso dei tacos con cosa? Pesce spada. Con del pesce spada e una maionese al... Al piccante. Maionese piccante. Pronti! Per merenda Leon non ha voluto nulla, mentre io mi sono presa un zucco da nana sghiacciato. Ed era veramente, veramente buono. Per cena siamo venuti in un ristorante specializzato in hamburger che Jorge voleva provare. Lui si è preso un hamburger con patatine dolci americane, mentre io un mac and cheese, una pasta al formaggio a cui hanno messo dalla pancetta croccante sopra. Per Leon, gli avanzi del pranzo, il pollo alla piastra e il riso con le verdure. Ci siamo spazzolati tutto perché era veramente buonissimo. E questo era what I eat in a day, cosa mangio, cosa mangiamo in una giornata tipo ai Caraibi. Inutile dire che era tutto freschissimo e delizioso. Io spero che il video vi sia piaciuto, se volete date un like. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per nuovi video ogni settimana. Noi rimarremo ancora un po' in Messico e stanno per arrivare tantissimi nuovi video delle nostre giornate in questo meraviglioso paese. Quindi iscrivetevi per essere sicuri di non perdervi i prossimi video. Io vi auguro una splendida settimana e ci vediamo come sempre mercoledì prossimo con un altro video. Ciao! Ciao!